Prima di entrare nella nuova fase estiva del fine settimana dal punto di vista meteorologico le prossime ore in Italia saranno ancora influenzate dagli ultimi residui del maltempo causato da un vortice di bassa pressione che si mantiene nel Mediterraneo meridionale. Di conseguenza la protezione civile ha emesso un'allerta meteo di livello giallo per rischio temporale e rischio idrogeologico su due regioni del sud, valida anche per la giornata di venerdì 8 settembre. Il vortice ciclonico responsabile del maltempo che ha colpito le regioni meridionali nei giorni precedenti e che ha causato danni anche in Grecia continuerà a rimanere più o meno immobile anche durante la giornata di venerdì prima di allontanarsi dal sud Italia e permettere un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Pertanto per la giornata di oggi venerdì 8 settembre è previsto ancora il persistere di piogge, eventi forti e temporali locali, talvolta anche intensi soprattutto nelle zone ioniche. In base all'andamento dei fenomeni meteorologici in corso e alle previsioni la protezione civile ha emesso un'allerta di livello giallo per rischio temporale sulla Sicilia orientale e sulla Calabria meridionale per la giornata odierna.